Giallo a Torre Maggiore dove da diversi giorni non si hanno più notizie di Matteo Masullo, 30 anni, già nota le forze dell'ordine. Secondo quanto raccontato da alcuni familiari, il giovane il 7 febbraio scorso era andato a Termoli a casa della sua fidanzata e dopo poco era sceso per prendere un caffè con alcune persone che lo avevano contattato sul suo telefono cellulare. Masullo però non è più tornato in quella casa. Il giorno dopo il padre del trentenne ha denunciato la scomparsa del figlio ai carabinieri, il suo cellulare era sempre spento. Nei giorni scorsi gli investigatori nelle campagne di Sansevero hanno trovato completamente bruciata la fiat tipo che il giovane aveva nolleggiato per raggiungere la fidanzata a Termoli. Gli inquirenti che stanno indagando sull'accaduto non stanno tralasciando alcuna pista, compresa quella di un'ennesima lupara bianca incapitanata. Inoltre si sta cercando di capire se la scomparsa di Masullo possa essere messa in relazione con l'omicidio di Giuseppe Anastasio, il 33enne ucciso a Sansevero il 5 febbraio, esattamente due giorni prima, la scomparsa di Masullo. Grazie. Grazie.